Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano la nazionale di calcio tedesca. Nel suo discorso il Papa ha preso spunto dal grande spirito di squadra degli attuali campioni del mondo, per i quali tutte le vittorie sono vittorie di squadra. Lo sport agonistico, ha detto, richiede infatti non soltanto tanta disciplina e sacrificio personale, ma anche rispetto per il prossimo e spirito di squadra. Questo vi porta a riconoscere la vostra responsabilità al di là dei campi di calcio, soprattutto verso i giovani che spesso vi prendono come modello. E vi porta anche ad impegnarvi insieme per alcuni importanti obiettivi sociali. Tra questi, Papa Francesco ha ricordato il supporto della nazionale tedesca agli Sternsinger, i cantori della Stella, per aiutare concretamente bambini e giovani dei paesi più poveri. Un'iniziativa che mostra come sia possibile superare insieme barriere che sembrano invalicabili e penalizzano le persone bisognose ed emarginate. Anche in questo modo voi contribuite alla costruzione di una società più giusta e solidale. Grazie. 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 Grazie.